torta di mandorle con solo tre ingredienti senza glutine e lattosio per prepararla occorrono 200 grammi di mandorle pelate tritare le mandorle finemente fino ad ottenere una consistenza farinosa in alternativa è possibile utilizzare la farina di mandorle utilizzare 4 uova medie a temperatura ambiente e dividere i tuorli dagli albumi unire un pizzico di sale agli albumi e montarli a neve ben ferma io utilizzo una planetaria ma come vedete è possibile anche utilizzare uno sbattitore elettrico unire lo zucchero ai tuorli e montarli fino ad ottenere un composto bello chiaro e spumoso per dare aroma alla torta io ho scelto di aggiungere della scorza grattugiata di un'arancia va benissimo anche la scorza del limone unire gli albumi al composto incorporandoli lentamente mescolando dal basso verso l'alto ed infine incorporare lentamente anche la farina di mandorle non serve aggiungere lievito né latte né burro né olio il segreto di questa torta è proprio tutto nel lavorare bene le uova versare il composto all'interno di uno stampo da 24 cm imburrato e infarinato meglio ancora se rivestito di carta forno per la cottura consiglio il forno statico preriscaldato a 180 gradi per almeno 30 minuti lasciare che la torta raffreddi per bene prima di estrarla dallo stampo e consiglio anche un riposo di circa due ore un dolce delicato e leggero profumatissimo provate la ricetta e fatemi sapere se non avete le mandorle pelate ma avete quelle con la buccia basta lasciarle 5 minuti in acqua bollente vedrete che la pellicina verrà via facilmente e se dovesse avanzare un pochino di impasto realizzate anche delle piccole tortine nello stampo da muffin ricetta completa consigli e varianti sul mio blog benessere e gusto